Franco Battiato Quali sono i brani che rappresentano di più le tappe fondamentali del suo percorso artistico e personale? Ce ne sono circa tre o quattro, butto lì qualcuno Uno è Testamento, si chiama così, per i miei eredi Un altro è Un irresistibile richiamo che parla di un tale che sta ascoltando delle campane che suonano una domenica pomeriggio e basta così per adesso Le voci, il cuore, la parola E' questa la traccia che identifica il Festival Settembre al Borgo 43 nei suoi spettacoli di prima serata alla Turre Cosa rappresentano per lei questi tre concetti? Tutto dipende che cos'è la parola chi la dice e che cosa porta e cosa trasferisce e quindi non è facile Le parole a volte sono inutili Esistono sentimenti che sono silenziosi quindi non è facile descriverlo Il suo spettacolo ha registrato il sold out in pochissime ore di prevendita Con quali parole o con quali note saluterà il suo pubblico di stasera a Caserta Vecchia? Questa sera essendo uno spettacolo diverso da quello che non ho fatto in Europa negli ultimi mesi quindi con band e con un assetto molto violento anche qui invece posso sfoggiare la mia passione che è quella mistica e quindi ci saranno molte canzoni spirituali stasera La location è ideale alla Turre? Proprio di sì Lei è stato spesso a Caserta e Caserta stasera dà un'altra notizia la sua candidatura a Città Capitale Europea della Cultura 2019 Quali sono secondo lei gli elementi di forza che Caserta può mettere sul tavolo per vincere questa sfida? Beh, dovrei abitare qui per dire e per capire anche che cosa sta funzionando nella zona però già questo festival dimostra una bandierina blu Ecco E' breve il gioire Vorrei tornare indietro Nella mia casa a Dupici Dove vivevo Prima Piange il peggiore insidio Che amarsi con monotonia Adesso piangi molto dopo Io mi disperò Terra con monotonia Vestiti di vietti dei Vestiti come dei bolsi Per entrare con te negli imperatori E maldinastia dei vini C'è il concentro di catica permanente Che non ti faccia mai cambiare idea Sui miei cose E sulla gente Grazie mille 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 Grazie mille